Ciao a tutti amici, sono io, Yulia War, e oggi sono qui per aprire insieme a voi le uova di Pasqua. Allora ragazzi, oggi apriamo insieme ben 11 uova di Pasqua più 3 ovetti Kinder, vedete questi Kinder sorpresa. Molti di voi mi avevano chiesto di fare questo tipo di video, che tra l'altro faccio ogni anno, perché io amo Pasqua e adoro aprire insieme a voi le uova di Pasqua, quindi sono felicissima di trovare varie sorprese, ovviamente di avere così tanto cioccolato. Come potete notare le uova sono tantissime, ne apriremo molte Kinder, vedete tutte queste con anche qui gli ovetti, quella della Juventus, quella delle Lore Surprise, dei PJ Masks, dei Puffi, poi ci sono queste che sono Bimbo e Bimba, quella dei Gormiti e quella dei Magiki. Quindi insomma un bel po' di uova e significa anche tante tante sorprese. Bene, direi di iniziare subito e direi di partire dall'ovetto dei PJ Masks, che come vedete è abbastanza piccolo. Ok, ho fatto un po' di spazio, spero si veda, ma la mia scrivania per quanto sia comunque grande, davvero è piena adesso di uova. Allora, ecco qui l'ovetto dei PJ Masks, come vedete sulla carta ci sono i vari personaggi e varie scritte PJ Masks. Allora, direi di iniziare subito, apriamolo. Eccoci qua col primo ovetto. Allora, sinceramente vorrei cercare di non distruggere le uova e quindi di lasciarle, ecco, come l'ho detto, Stavo per dire, è di lasciarle anche abbastanza integre, però giustamente no. Vabbè dai, pensavo peggio. Mettiamo i pezzi qua dentro. E quindi qua dentro ci dovrebbe essere la sorpresa. Vediamo. Ah, un personaggino. Allora, ecco qui, questi sono gli otto personaggi che possiamo trovare. E noi abbiamo trovato questo qui, vedete, che è questo classico, anche se poi ci sono anche quelli in posizione. Che poi, se non sbaglio, anche l'anno scorso avevamo aperto un uovo, come è questo, dei PJ Masks. E noi avevamo trovato questo personaggio, se non sbaglio. Ok, è stato un po' complicato a metterlo sullo stand. E questo è il personaggio, abbastanza semplice. Niente di che. Ok, mettiamolo là e passiamo... Dai, passiamo all'uovo dei buffi, che invece è più grande rispetto a quello dei PJ Masks. E che è balocco. Allora, apriamo. Tra l'altro, guardate che è carina la carta. Ok, eccoci qui. Tra l'altro l'uovo è già praticamente aperto. Ah, wow. Quindi questa è la sorpresa. Allora, aggiustiamo un attimo l'uovo. Ok, ragazzi, la sorpresa è questa qui. Sinceramente mi aspettavo di più, perché alla fine è questa cosa di... Non so neanche di che materiale, di plastica. Così, questi due personaggini, molto semplice. Diciamo che è molto poco rispetto al prezzo che appunto bisogna pagare per prendere l'uovo. Quindi mi sembra un pochino poco come sorpresa. Comunque, adesso direi di aprire uno degli ovetti Kinder sorpresa. Questi qui li apriremo man mano che andiamo avanti col video. Quindi adesso ne apriamo uno e poi più là ne apriamo un altro. Devo dire che la Kinder è sempre la mia preferita, perché il cioccolato è buonissimo. E lo sono anche le sorprese. Cioè, non sono buonissime le sorprese, però sono bellissime. Allora, tra l'altro qua dice che uno su tre degli ovetti si trova una Barbie, un personaggio Barbie. Allora, apriamolo. Tra l'altro, vabbè, il cioccolato è delizioso. Quindi se mai vi dovessi consigliare un uovo da prendere, probabilmente vi consiglierei quello Kinder. Allora, piano, senza distruggerlo. Incredibile, ragazzi. Sono riuscita ad aprire l'uovo senza distruggerlo. Comunque, vediamo. Oddio, abbiamo trovato proprio la sorpresa Barbie. Che fortuna, al primo colpo. Questi sono appunto i vari personaggi che possiamo trovare. E quello che abbiamo trovato noi... Ah, è la cuoca. Che bello. Sono davvero carinissimi. Ok, ragazzi. Come potete notare, in un novetto così piccolo, abbiamo trovato una sorpresa molto più bella di queste due messe insieme. Vabbè, mettiamolo qua. E teniamo questo per dopo, le altre due. E passiamo, dai, passiamo a questo bimbo, della Walcor, con cioccolato al latte e con sorpresa all'interno. Speriamo sia una bella sorpresa. Ok. Allora. Piano, senza distruggere tutto. Ok. Seriamente? No, aspetta. Voglio capire. Mi state dicendo che la sorpresa di quell'uovo è questo spinner a forma, per carità, molto carino, vedete, a forma di dollaro americano. Però, cioè, ragazzi, che poi tra l'altro si ferma subito. Dai, però non è, cioè, non è male. Certo, vi sarei aspettato una sorpresa un po' più sostanziosa. Però, considerando che è costato all'incirca due euro, davvero, è comunque un, oddio, una buona sorpresa. A parte che era da tanto che non tenevo in mano uno spinner. Dai, io direi di aprirne un altro Kinder, perché sì, assolutamente. E apriamo, non so se aprire questo di Dora l'Esploratrice, oppure quello di Batman. Dai, apriamo quello di Batman, quello di Dora lo teniamo per dopo. Ragazzi, con che precisione ho aperto l'uovo, davvero. Incredibile. Vediamo la sorpresa. Oh, aiuto. Vediamo, oddio, il personaggio di Batman. Che bello. Non è caduto un adesivo. Ecco. Ma, quindi si poteva trovare anche l'automobile? Vabbè, comunque, noi abbiamo trovato il personaggio. Wow. Allora, ragazzi, questo è il personaggio che, tra l'altro, può anche muovere le braccia, al quale si può mettere o il mantello, in questo modo, eccolo qua, oppure, aspetta, ok, oppure le ali, così. Guardate, è fantastico. Ecco perché, prima vi dicevo che le sorprese Kinder sono sempre le più belle. Ok, ragazzi, siccome sono troppo curiosa, direi di passare all'uovo delle LOL. Speriamo ci sia una bella sorpresa, anche perché devo dire che è costato abbastanza. Quindi speriamo che l'originale sorpresa sia effettivamente originale e bella. Ok, devo dire che l'uovo è abbastanza grande. Forse è il più grande che abbiamo, sì, il più grande che abbiamo aperto, almeno fino ad adesso. Ma neanche ad aprirsi. Ok, no, 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 lo sto aprendo troppo, lo sto distruggendo, praticamente. Ok, ragazzi, abbiamo trovato un puzzle, che ovviamente adesso non lo farò, ma che dovrebbe, diciamo, essere questo qui. È carino, comunque un puzzle, è abbastanza carino, poi volendolo si può fare anche con i propri amici, però mi sarei aspettata di trovare tipo una bambolina delle LOL, insomma, qualcosa del genere. E' non un puzzle, però comunque è una sorpresa carina, migliore di certo di alcune che abbiamo trovato. E ovviamente sto parlando di quella dei puffi. Già che ci siamo, apriamo un altro degli ovetti Kinder sorpresa. Chissà che cosa troveremo adesso in quest'altro ovetto. Visto che nel primo abbiamo trovato quello di Barbie. Allora, devo cercare di non... Oddio, quanto sono brava, sono diventata proprio brava ad aprire le uova. Vediamo. Oddio, che cos'è? Allora, questo non so proprio cosa sia, sinceramente. Ah, è un robottino. Ah, è un robottino a cui dobbiamo mettere la faccia. È molto, molto carino. Mettiamolo vicino ai suoi compagni Kinder. E passiamo a... Vediamo. Dai, facciamo questo qui dei magichi. Sono curiosa. Ok. Apriamolo. Non so come ce la possiamo fare. Ah, ok, così. Questa, a differenza degli altri, non si apre in verticale ma in orizzontale. Che forse anche è meglio, perché in questo modo riesco a ricostruirlo. Ecco, così. Vediamo, vediamo. Ah, sarà un personaggio. Qui ci sono dei poni. Sì. Magichi... Ah, sono i magichi cavallini. Ok. Vediamo. Io vorrei tanto trovare... Patti, sembra carino. Vabbè, vabbè, dai, vediamo che personaggio abbiamo trovato. Vediamo, vediamo. Ok, abbiamo trovato... Ah, Patti. Abbiamo trovato proprio Patti. Sì. Wow, che fortuna. C'è da dire che di solito la fortuna non è dalla mia parte, però in questo caso ho trovato proprio il personaggio che trovo più carino. Oh, dai, non è male. Certo, è una sorpresa un po' piccola in proporzione proprio all'uovo, alla grandezza dell'uovo. Ok, adesso direi di aprire... Dai, apriamo quello piccolo Kinder, ovvero quello di Dora. Dora l'esploratrice, che tra l'altro ho distrutto, mi dispiace. Eccolo qua, vediamo. Io, sempre più esperta ad aprire perfettamente le uova. Ecco, rimettiamola a posto. E vediamo subito. Oddio, che abbiamo trovato... Nooo, che carini! Nooo, vabbè. Ah, si trovavano i personaggi di Dora. Di Dora l'esploratrice, vedete? Questi erano i personaggi che si potevano trovare. E noi abbiamo trovato Dora. Oddio, ma... Ah, può anche muovere la testa. Che carino! Che bello! E poi quest'altro personaggio. Che bello! Ah, tipo può girare un sacco. Che carini! Sono proprio belli. Oddio. Sono proprio belli questi personaggi. Volendo, si possono attaccare al portachiavi, allo zaino, dove si vuole. Ok, adesso direi di aprire quello della Juventus. Eccolo qua. Con sorpresa, tra l'altro. Quindi vediamo. Perfetto, è già aperto. Wow! Vediamo. Ah, delle spille. Ok, diciamo che questo è quello messo peggio. Il più distrutto tra tutti. E tra l'altro non sono stata neanche io a ridurlo così. Questa è la cosa più sorprendente. E questa è la sorpresa. Sono delle spille molto carine. In particolare, penso che potrebbero piacere molto a coloro che sono Juventini che, insomma, seguono questa squadra. Anche se mi sembra un po' poco, perché, insomma, sono soltanto delle spillette così. Queste due, in particolare, sono molto carine. Ok, come potete notare, la mia scrivania si sta popolando di uova. Direi adesso di aprire questo bimba, che quasi mi ero dimenticata, visto che avevamo già aperto quello bimbo. Quindi, tra l'altro, ah sì, avevamo trovato lo spinner. Beh, speriamo che la sorpresa bimba sia un po' più carina. Ok, vediamo. Ah, perfetto, si è aperto così. Ah, un altro spinner. Wow. Ok, abbiamo trovato un altro spinner. Non che io pensi che sia un gioco da maschio, però solitamente sono più i ragazzi a utilizzarli. E poi questo con le ossa, non penso sia molto femminile, però comunque ci sono ragazze a cui piacciono gli spinner con le ossa. E sinceramente, tra i due, devo dire che preferisco questo qui con lo dollaro. Ok, direi di aprire anche l'ultimo ovetto Kinder Sorpresa. Vediamo cosa troveremo anche in questo. Ok, come Kung Fu Panda. Wow, sono stata fantastica! Devo fare più spesso con questa tecnica di tagliare, di affettare con la mano. Vediamo. Oh, un... Oddio, no! Che carino, è un delfino che accompagna il suo figlioletto. Che bello! Ok, penultimo uovo, quello dei gormiti. Vediamolo velocemente. Anche perché ormai la mia scrivania è piena di uova. Ok, ho esagerato con la forza, però fa niente. Giriamo. Ecco, sembra proprio perfetto così. Vediamo che cosa abbiamo trovato. Wow, degli adesivi! Sì, sì, sono degli adesivi. Tra l'altro l'ultimo è anche rovinato. Che bello! Degli adesivi! Sì. Non so se sia peggio questa sorpresa oppure quella dei puffi. No, no, vabbè dai. Quella dei puffi proprio non si supera. E infine, ultimissimo uovo è quello Kinder degli Avengers. Apriamolo subito. Ok. E con la mia tecnica... Ok, no. Pensavo che la mia tecnica infallibile fosse infallibile, ma in realtà non è così. Mettiamo... Ok, perfetto. E vediamo anche l'ultima sorpresa. Oddio, abbiamo trovato uno degli Avengers, Iron Man. Oddio, che bello! Che bello! Ok, questa è sicuramente la sorpresa più bella. Allora, c'è il personaggio. Vedete? Bellissimo. Poi abbiamo questo che è tipo il super cattivo, che mettiamo così, sperando che rimanga in piedi. Ok. E poi abbiamo questa che serve per lanciare i dischetti e immaginare di essere proprio come i nostri supereroi. Tadà! Quindi queste erano tutte le uova che abbiamo aperto oggi e sono un bel po', devo dire. La sorpresa che più mi è piaciuta è ovviamente l'ultima perché davvero è troppo divertente. Anche se devo dire che alla fine tutte le sorprese della Kinder sono bellissime. Quindi se mai vi dovessi consigliare un uovo, come ho già detto all'inizio, di sicuro vi consiglio quello Kinder. Oltre perché, oltre al fatto che il cioccolato è buonissimo, delizio, insomma anche le sorprese sono bellissime. Magari ditemi voi quale tra queste più vi è piaciuto o quale cioccolato vi piace di più. Insomma, fatemi sapere la vostra opinione nei commenti. Bene, adesso passiamo i saluti! Se questo vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi al mio canale e di passare anche dai miei profili Instagram, dai quali lascio nella descrizione il link. Vi ricordo anche di seguire la mia pagina di Facebook che si chiama GiuliaGuerra03, della quale lascio sempre nella descrizione il link. Bene, noi ci vediamo alla prossima! Ciao!